il web è veramente un posto meraviglioso e sapete per quale motivo perché fino a quando un determinato calciatore lo compra qualcun altro allora hanno comprato un fenomeno quando però quel calciatore lo prende qualcun altro allora è una pippa di quelle clamorose è quello che sta succedendo con Romelu Lukaku nuovo calciatore della S Roma che però aspetta no perché qua ci stanno tantissime cose da dire con la Roma di mezzo forse è anche giustificato il dire Lukaku è una pippa perché Roma può succedere qualunque cosa ci potrebbe diventare però il discorso è un altro Lukaku ancora non ha giocato per la S Roma non possiamo sapere effettivamente quel che darà però il dato oggettivo che ci abbiamo è l'impatto che Lukaku ha avuto in Serie A due volte con l'Inter in due finestre differenti ciao ragazzi ben ritrovati prima di addentrarci vi salutiamo una marea di mi piace su questo video semplicemente per supportare questo genere di contenuti è gratis non costa assolutamente nulla iscrivetevi attivate la campanella per restare sempre aggiornati ogni volta che pubblichiamo qualcosa vi ricordiamo che abbiamo due canali di calcio questo contenuto probabilmente uscirà sul secondo canale youtube quindi vi chiediamo per non perdervi neanche un video di iscrivervi e di attivare la campanella su entrambi i canali per voi è una cosa insignificante ma ci farebbe veramente tanto piacere per esempio su sto canale youtube il 40 per cento di voi non è iscritto ma segue regolarmente i contenuti sul primo canale tipo il 36 35 per cento fateci questa cortesia anche perché li seguite spesso i video abbiamo pure un canale extra calcio canali in infobox durante il video compariranno qui lui prima di aprire questo contenuto mi ha detto ma tu veramente te ce la prendi io in realtà non è un prendersela è un guardare no come poi le situazioni vanno ad evolversi perché io poi st'estate no senti per quanto poi vabbè i tifosi della juventus noi lucacu non lo vogliamo se vogliamo entrare nei meriti di come si è comportato lucacu fuori dal campo per dinamiche di campo quello è un altro discorso lo abbiamo già detto e ripetuto ma se dobbiamo valutare lucacu anche qualora non fosse andato alla roma come calciatore come valore aggiunto all'interno di una realtà più o meno forte allora lì il discorso è completamente diverso voglio riaprire però prima di passare ai commenti e quello che hanno detto soprattutto nel dettaglio voglio ritornare nei meriti di come si è comportato lucacu qualcuno pensa perché lo avete scritto nei commenti che noi adesso improvvisamente siamo innamorati di romelu lucacu per come si è comportato con l'inter allora non ha nulla a che vedere no quello che ha fatto lucacu zero anzi inter ma inteso esatto all'inter inteso per come si è comportato esatto come professionalità come rapporti umani se si è comportato una merda ma l'abbiamo già detto anzi c'è un contenuto dedicato che vi invitiamo ad andare a recuperare perché c'è sta l'abbiamo già parlato per cui vi riassumiamo dicendo come ha detto lui una cosa comportato malissimo punto non ripetiamo più questo discorso aggiungo più che altro che dicono loro siete già innamorati di lucacu no io aspetta non sono innamorato di lucacu ma noi stavamo ma noi veramente stavamo a cominciare ragazzi e la stagione è cominciata noi ci hanno preso a zmoon in extremis e stavamo solo con belotti ma mettetevi nei panni di un tifoso della roma che là davanti manca qualcosa non gli manca tutto la davanti manca tutto è facile parlare se voi la davanti siete attrezzati c'avete le squadre c'avete l'inter c'ha l'autano martinez c'ha turam c'ha questo c'ha quello c'ha quell'altro per milano con girù e gli altri eccetera ma ok sono d'accordissimo io come faccio a non essere innamorato ma a prescindere non so come spiegartelo di un calciatore che arriva che potrebbe essere utile a tutte le squadre della serie a potrebbe essere il titolare in qualunque squadra della serie a esatto come faccio a non essere io esaltato innamorato già a prescindere solo per l'operazione fatta che mi arriva lukaku con la mia squadra che parte come minimo tra il sesto settimo posto forse anche più giù come faccio a non essere esaltato sai chi se può permettere di ma che ce devo fa un real madrid di turno un che ne so io dimmi un'altra squadra super attrezzata che dice io sto a posto là davanti io ti provo che ti dico che forse lukaku nella migliore condizione farebbe comodo anche allo stesso celsi che ha fatto di tutto per liberarsene al di là di tutto quello che si è comportato male eccetera 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 il problema è se comporterà male pure da noi io metto in conto che potrebbe accadere sì ma io ti dico la verità metto in conto che potrebbe accadere a me non mi interessa minimamente perché male che me va me lo devo sopportare quest'anno e arrivederci chi se ne frega è un interesse reciproco basta da parte sua a me mi fai comodo a te te faccio comodo e la dovete leggere così questa operazione di calcio mercato cioè ci vogliono nel poi soprattutto nel calcio odierno dopo che abbiamo visto per due volte come si è comportato no no tre volte perché in realtà con l'inter ha fatto del tutto ha fatto tre figure di merda nel giro di un anno esatto tre nel giro di un anno e poi il fatto è che aveva mostrato no amore incondizionato all'inter ha fatto del tutto pur di tornare si è decurtato lo stipendio e poi ti eri accordato con la juventus noi non stiamo a sindacare quello mettetevi lo ribadisco nei panni di un tifoso della roma che non c'ha attaccanti e che si ritrova uno che potenzialmente ne può fare tanti e soprattutto adesso voglio rispondere ai commenti soprattutto sotto il mio video che è uscito prima cronologicamente ovviamente rispetto al suo che hanno scritto ma veramente vi state esaltando per quella pippa di lukaku ma non veramente voi mi volete dire che romelu lukaku in serie a perché poi se torniamo nei meriti di tanti fallimenti che lukaku ci ha avuto in altre realtà di premier league quello è un altro discorso ma per quello che lukaku ha dato in serie a ma voi veramente me lo volete definire un pacco e una pippa prima di avergli visto fare almeno una prestazione con l'Sero almeno una almeno una stagione per tirare le sole esatto dobbiamo secondo me fare un paio di precisazioni ovviamente il lukaku che arriva adesso a roma non è secondo me lo stesso che ha allenato antonio conte quindi il primo lukaku dell'inter quel giocatore al momento non è un lontano ricordo però è ancora lontano da poter essere quel tipo di calciatore devastante perché era imprendibile il secondo lukaku quello che ha allenato in zaghi secondo me a parte la stava tornando però dai bravissimo stava tornando su quei livelli poi secondo me questo è stato un pochino turbolenta con i problemi prima con l'inter poi con la juventus sarà un po' indietro deforma bravissimo era proprio questo dove il punto dove voleva arrivare potrebbe essere un pochino indietro ovvio precisiamo anche sicuramente siamo anche che per un calciatore della sua stazza a tornare in forma ci vuole parecchio tempo diamo il tempo necessario a lukaku per poter essere lukaku ma io sono sicuro che sarà un calciatore per il nostro livello per la nostra dimensione non lo conosce imprescindibile un rignolo allenato secondo me lo farà giocare pure su una zampa sola probabilmente come è successo con dibala come è successo con abram appena arrivato che non c'aveva un allenamento sulle spalle abram subito di dolare alla prima del campionato per me succederà uguale letta da questo punto di vista e poi ragazzi io vi ribadisco poi se il tifoso dell'inter parla perché lukaku si è comportato male io sotto un certo punto di vista posso anche comprendere però regà non potete negà cioè capisco la frustrazione e la rabbia che uno prova nei confronti del lukaku perché io sono il primo che mi sono messo nei panni a un tifoso interista e avrei pensato la stessa cioè ce l'avrei veramente non vi dico neanche come ma sarei veramente incazzatissimo con lukaku lo odierei perché si è fatto veramente odiare cioè per come era tornato si è fatto amare e per come li ha lasciati per come l'inter sta a fare lo sforzo economico per prenderlo ma si è fatto odiare e sto d'accordo però non potete negà non mi potete venire a di è una pippa è scarso non si regge in piedi perché regà non sta né in cielo né in terra dovete essere obiettivi esatto infatti secondo me è proprio la mancanza di obiettività che fa parlare in questo modo il tifo ovviamente vi accega e so d'accordissimo siete anche giustificati però magari quella stessa persona che ti dice ti esalti per l'arrivo di lukaku l'avesse preso la sua squadra probabilmente si sarebbe esaltato questo purtroppo io sinceramente non ci do molta importanza a me mi rimbalzano questo tipo di cose se l'avesse preso il milan no come alternativa girù se l'avesse preso il napoli no che se impazziscono vanno manna via simeone come alternativa usi man se l'avesse preso se l'avesse preso la juve come alternativa vlaovic se l'avesse preso l'inter lo rivoleva in realtà poi per forza le cose non è potuto restare no però tonno minà se l'avesse preso la lazio gli avrebbe fatto schifo come vice immobile ma io credo che l'inter addirittura lo avrebbe fatto giocare titolare secondo me quest'anno ovvio secondo me lukaku all'inter l'inter avrebbe fatto titolare turam sarebbe stata l'alternativa con calma fai giocare turam ma intanto con lukaku poi siete liberissimi di pensarla diversamente però cercate di restare lucidi certo mettetevi nei panni in tifoso della roma ma ci abbiamo la libertà di esultare e di esaltarci per un giocatore che voi immaginatevi se noi avessimo cioè vincemo manco per sbaglio senza lukaku perché avete visto le prime giornate di campionato cioè io non devo essere contento di un arrivo così pesante seppur a breve termine perché poi non so quello che accadrà nella prossima stagione però io ragazzi l'ho detto e lo ribadisco nei giorni nostri poi è vietato affezionarsi ai calciatori io penso e vivo alla giornata intanto è arrivato interesse reciproco e poi vediamo quello che succede se ci tradisce tra virgolette che alla prima offerta se ne va a me l'importante è che quest'anno mi fa 12 13 gol mi bastano e mi avanzano basta che l'altri 10 se può alzare anche un pochino proprio motion una decina di gol è quello che l'hai pagato deve far meno 10 gol cioè capite di che cosa stiamo parlando detto questo la vostra qui sotto nei commenti grazie per la visione di questo contenuto e ci vediamo alla prossima con un nuovo video ciao ragazzi